Dovremo cambiare i nostri comportamenti, dovremo cambiare i nostri comportamenti perché il Covid-19 non sparirà, non basta il bacino, dovremo cambiare i nostri comportamenti perché il virus Covid-19 non sparirà. Parola di Maria Rosaria Capobianchi che dirige il laboratorio dell'ospedale Spallanzani di Roma. Maria Rosaria Capobianchi è quella che ha isolato il virus e se ne intende. Maria Rosaria Capobianchi dice che il vaccino non farà scomparire il virus, resterà sempre il virus accanto a noi, noi dovremo cambiare comportamenti, dovremo cambiare comportamenti. Io la notizia l'ho letta su un potentissimo web journal e tale notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video. Ma quali sono i comportamenti che dovremmo cambiare? Cara virologa Maria Rosaria Capobianchi, l'articolo non lo dice, ma io suppongo che i nostri comportamenti da cambiare siano quelli che stanno trasformando il nostro pianeta in una fogna a cielo aperto. Ma io queste cose le ho sempre dette ancora prima che le dicesse la brava, bravissima virologa Maria Rosaria Capobianchi perché il pianeta si è stancato degli umani, si è stancato il pianeta degli umani, per cui il pianeta Terra ha fatto saltare fuori un nuovo virus, il covid-19 che ci impone di cambiare i nostri comportamenti. Bene, 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 cioè i nostri comportamenti devono cessare di essere distruttivi nei confronti di madre e natura, capito? Non ci si comporta male nei confronti della propria mamma. E intanto, intanto che l'umanità si decide a cambiare comportamenti, la cosa più bella è quella di entrare in una libreria, comprare una copia della stirpe del serpente e leggerla attentamente perché in quest'opera storico-mitologica si spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato ed è proprio il patriarcato che ha portato a questa situazione per cui abbiamo trasformato, stiamo trasformando il pianeta in una fogna a cielo aperto, una fogna a cielo aperto. Va bene cari amici, va bene cari amici, ok brava virologa Maria Rosaria Capobianchi, ok ok, molto bene. Non so se ci siamo capiti, caso mai non ci fossimo capiti, cioè io non mi fossi spiegato bene. Fatemelo sapere che io cercherò di spiegarmi meglio. Intanto a tutti, in primis alla virologa Maria Rosaria Capobianchi e poi a tutti voi, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.